Quali sono le considerazioni su questo festival, le valutazioni su questa edizione e quali sono un po' anche le prospettive e le ragioni di questo trasferimento? L'itineranza è sempre stata una caratteristica dell'ordine francescano e anche nel festival francescano abbiamo voluto dare questa impronta di movimento. Reggio Emilia, Rimini e la prossima città con probabilità sarà Bologna segnano proprio questo nostro volere andare di luogo in luogo a incontrare continuamente gente nuova. Il terzo anno a Rimini del festival è stato un consolidamento e un affezionarsi alla città che sia nelle autorità civili che nella gente ha trovato una grande risposta sia per i contenuti che proponiamo sia per le attività ludiche e di approfondimento che appunto il festival stesso propone. Parlare di Gioia Rimini è un po' come parlare della sua natura stessa, di un luogo che nella storia è passata e recente riscopre la natura di una città di passaggio, una città che propone tante cose nuove sia di approfondimento spirituale che di divertimentificio così come lo chiamano tanti e la gioia che proponiamo a noi è una gioia che libera il cuore. Questa forse è una lettura diversa di questo luogo. Dopo alcune edizioni ormai del festival diciamo quali sono le valutazioni che come organizzatori, come presidente state facendo su questa manifestazione e sul suo futuro? Andare nelle piazze, stare in mezzo alla gente era lo scopo iniziale del festival e mi sembra che sia stato, sia riuscito e che dia degli ottimi risultati appunto per la risposta e l'attenzione che la gente ha nelle proposte che noi facciamo. L'obiettivo con cui era partito il festival è riuscito, dovremo cercare allargandoci poi sempre più nelle città in giro per l'Emilia Romagna ma speriamo anche fuori dalla nostra regione di trovare sempre più la possibilità di raccontare ciò che Francesco ha significato per noi della famiglia francescana agli altri.